Nonostante un telegiornale molto corposo con manifestazioni che riguardano la prossima Santa Pasqua con la Domenica delle Palme, processione dei misteri, processione in altri paesi, tanta cronaca, non possiamo esimersi da fare un servizio di politica dopo le notizie che abbiamo appreso, iniziamo da un servizio dove questa mattina alla Cantina Borbonica, non ne sape niente nudo, nel senso che non ne sanno i consiglieri comunali, non ne sanno credo anche forse anche il Presidente del Consiglio, non ne sa parlare nessuno, si riuniscono i PUC alla Cantina Borbonica per vedere addirittura cosa devono fare, 300 persone, ma ascoltiamo il servizio. Sono stati avviati a Pratinico per la seconda edizione i progetti di pubblica utilità, i cosiddetti PUC. Si tratta di interventi di carattere straordinario che prevedono l'inserimento di percettori del reddito di cittadinanza per svolgere per conto del Comune lavori di pubblica utilità. Saranno impegnate per il periodo che va da aprile 2023 a dicembre, sempre di quest'anno, quasi 300 persone, 295 per l'esertezza, che verranno assegnate ai vari settori del Comune di Pratinico. Una gran parte di queste 295 persone verranno impegnate nel settore del verde pubblico e si occuperanno anche di tutte quelle che sono le attività esterne del Comune, dalla pulizia delle strade alla manutenzione dei giardini pubblici. Altri verranno assegnati alle attività interne dell'ente, dalla pulizia degli uffici comunali al supporto logistico per quanto riguarda le attività di ordinaria amministrazione del Comune. Ai 295 percettori del reddito di cittadinanza verrà inoltre assicurata la formazione sulla sicurezza sul lavoro. Certo, appare quantomeno singolare che in una città con un organico di ben 50 dipendenti nel settore manutenzione ci sia bisogno di ricorrere al volontariato, in questo caso svolto dai beneficiari del PUC. Strade e ville comunali dovrebbero brillare e ogni intervento di manutenzione dovrebbe e potrebbe essere tranquillamente svolto dai 50 dipendenti comunali assunti proprio per svolgere tale mansione, senza dunque la necessità di ricorrere a ditte esterne o i percettori del reddito di cittadinanza. Pulizia e decoro urbano dovrebbero essere all'ordine del giorno e chi dovrebbe occuparsene dovrebbe intervenire in maniera costante durante le proprie ore di lavoro e invece di questi 50 dipendenti non ne abbiamo mai visto nemmeno uno. Dopodiché, come avete avuto modo anche di sentire, scopriamo che il Comune di Partinico ha addirittura 50 persone, 50 persone dedicate alla manutenzione, ma non ne so, ma non ne hanno stato, ma che cos'è? Cose da pazzi. Ma noi vogliamo puntualizzare, vedete, proprio perché questo Comune viene da uno scioglimento per mafia e viene da uno scioglimento per mafia per anche questioni soprattutto legate ai servizi sociali, anche peraltro, ma legate anche a qualche cooperativa nello scioglimento, legate al fatto che il Comune non appalta servizi, ma appalta addirittura personale, come abbiamo avuto modo di vedere e di leggere in quelle che sono le notizie che ci sono venute fuori dalla casa di riposo, per esempio. Ma noi lo continuiamo a fare, perché vedete, abbiamo avuto modo di vedere, a parte il fatto che avrete qualche dubbio, mi perdonerete, per quanto riguarda quello che è, diciamo, l'ATI che ha vinto una gara, l'ATI che ha vinto la gara per quanto riguarda il trasporto dei disabili. Guarda caso, noi non appaltiamo il servizio, ma appaltiamo addirittura il personale. Cioè, noi ci diciamo, per 60 mila Euro, guarda una vita a dare solo una autista, una autista a due cristiane, all'ATI che ha vinto il servizio e che ovviamente molto spesso fare il consigliere comunale, diciamo che è molto importante. Ma questo, poi sono gli organi inquirenti che devono accertare le cose. Che cosa succede? Succede che continuiamo a fare lo stesso errore che ci ha portato allo scioglimento per infiltrazione mafiosa. Cioè, noi altri, ci diciamo, di i mezzi per il trasporto li mettiamo noi altri, cioè i pulmini li mettiamo noi altri. Guarda una metà a dare solo l'autista e due cristiane e continuiamo a perseguire quello che è appunto l'errore fatto e anche la dispersione di fondi. Perché vedete, ma nate questi 50 cristiani e una autista indipendente, cioè o l'avevamo uno che può fare l'autista e due che può non fare... l'avevamo, tra le altre cose c'erano. Ma nate o l'avevamo una autista indipendente, due che possono... no, no. Qui noi abbiamo di tutto e di più. Cioè continuiamo a fare gli errori che abbiamo fatto e che ovviamente fanno accendere il riflettore poi agli organi inquirenti. secondo me, secondo me è così e secondo me ovviamente poi c'è anche da andare a vedere come a partire dal mese di dicembre a oggi si svolgono certe cose. Ah, ve lascio a così.